Non potete capire quante api ci sono su questi fiori. Potete vederle volare, purtroppo non potete sentire il loro rumore, credo, dopo proverò a sentire se si riesce a sentire il loro rumore. Questo è un glicine, tanto per dirvelo. È un glicine che è già fiorito per buona parte, però ha ancora un po' di fiori che devono aprirsi. Mi sa che c'è una che si lo occupa. Qua, che sta volando qua in giro. Non ci riesco a beccarla. Un tasparito. 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 Grazie a tutti